Qua siamo sul sagrato della chiesa di San Martino che nel 1700 era cimitero qua poi i defunti venivano tumulati nei sotterrani della chiesa, all'interno della chiesa e poi con un decreto la Maria Teresa d'Austria proibì la tumulazione delle salme all'interno della chiesa anche perché veniva fatto il nuovo cimitero che era in fondo via San Martino i resti, quando sono stati votati i secoltri della chiesa c'è un documento, un casa parrocchiale che dice che fu scavato un fosso alto 5 braccia e tutte le osse furono deposte al lato sinistro della chiesa praticamente sulla via questo nel 1765 ok, Napoleone non era ancora passato no, Napoleone non c'era ok